Fun! Numbers! Signore, ora devo chiederle di andarsene. Sta mettendo la carne e i clienti molto a disagio. Cosa? Ma sei sempre uguale e i clienti stanno benissimo! Io... Io... Sarà il caso che me ne vada... Scusami ragazzo! Potresti aiutarmi a attraversare la strada? Ehm... Nessun problema, signora. Lasci che ci pensi io a darle una mano. Come hai detto, scusa! Parli come una macchinetta! Aspetta! Il semaforo non è ancora diventato verde! Ti ho chiesto di aiutarmi, non ti uccidermi pazzo figlio di put***a! Vuoi farti ammazzare forse? Grazie a Dio indosso le mutande contenitive. Ehi! Ehi Lachlan! Ti sembro forse un tipo irrascibile? Ho preso la colazione! Hai trovato l'Uggis? Certo! Ah, ottimo! È tutto pronto allora! Non è stato così difficile, no? È la quiete prima della tempesta! Non staremo dimenticando qualcosa? Che cosa vuoi dire? È un coinquilino! Già, ma non pensi che la presenza del maestro ubriacone lo farà sospettare di sai... Attività ninja? Non sembra sospettare nulla di niente! Tra l'altro non ci ha nemmeno mai chiesto l'affitto, a parte lo strano pacchetto di Fonzi. Francamente sono più preoccupato che il maestro ubriacone l'ho uccita a prima vista! Oh, oh, oh... Hai ragione! Dobbiamo nasconderlo! Wow, amici! È la pula! La polizia, cavolo! Dobbiamo nasconderci! No! È molto peggio! È il maestro ubriacone! Dobbiamo correre! Ciao ragazzi se il video vi è piaciuto come al solito fateciò sapere qui sotto nei commenti E lasciate anche un bel pollicezzo su se vi è piaciuto il video E non dimenticate di spuntare la campanellina in basso a destra Per rimanere sempre aggiornati su tutti i video che pubblichiamo Oh yeah E ora passiamo ai salumi Allora io che sono Sherlock ci tenevo a salutare Roberto Ufa Ciao Roberto quando vuoi porta un po' di vino e vieni a fumare il bong con me Io che sono Paul ci tenevo a salutare Alessandro Lodesio Ciao Alessandro quando vuoi vieni con me nel mio fantastico mondo Ciao io sono Hamilton e ci tenevo a salutare Narcis Edward Barbu Ciao Narcis Edward se vuoi venire sulla nostra pane astronave sei il benvenuto Oh hey io sono Carl e ci tenevo a salutare Zeta David Ciao Zeta David se vuoi contribuire al mio drago di carne sei il benvenuto Ha 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 ha